eh mamma mia che tristezza che è successo maria scusa è successo qualcosa di grave ho passato capodanno da sola perché chissà quante persone di noi quindi lo so che cosa si fa per amore non si scrivono quelle parole non si dicono quelle parole se poi non corrispondono la colpa è la tua perché te li metti intorno a te questi soggetti tieni qui a prendere in giro una signora di 72 anni che lei quella che è perché per carità ma sei tu che devi chiedere scusa non io per te è chiusa in modo definitivo assolutamente sì cosa veramente ma vergognarti proprio io non so sai che cosa mi domando come fai ancora a stare seduto lì e non essere ne andato veramente perché con me hai preso in giro tutte sappilo e continuerai a fare così perché tu sei così lì e non è andato lì e non è andato